Benvenuti a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti alla conquista del mondo signori Allora, io non ricordo come siamo messi, però prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto, per tutto quello che fate per questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram, di più su Instagram però più che altro per gli aggiornamenti per le live che sono tornate sul canale E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate il link in descrizione per poter fare sia questo sia i social Detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo con il video Ok ragazzoli, allora, noi ci siamo fermati l'altra volta alla partita con il Los Wonsic ed è quinta in classifica e 54 punti E' uno sconto diretto raga, è uno sconto diretto, noi siamo a 42 punti, riuscissimo a vincere oggi, ci riavvicineremo alla zona playoff che è il nostro obiettivo Abbiamo una squadra che è decisamente molto stanca, quindi allora, leviamo Naga e facciamo giocare Claudio, quindi riportiamo la coppia titolare davanti Esposito facciamo giocare Kuruma, anche se non meriterebbe, però va bene Raid, dico non riesce a tenere una partita, quindi facciamo giocare Mariani Nicholson va bene, Watanabe, Lima, Hamilton, se non sbaglio Harbud dovrebbe essere tornato, Drollo e McKinley Ci portiamo loro signori miei, purtroppo Salazar ancora è rotto, Hamilton è scontento ma non ci posso fare niente Ce lo portiamo in panchina ma non ci posso fare assolutamente niente Casadei non vede il campo da 15-18, però Casadei è tornato Casadei è tornato all'infortunio, e là può prendere il posto di Kuruma Porca miseria, non mi ero completamente d'accordo, grande Casadei, facci le ballate che sai fare solo tu da quella parte del campo E Kuruma non vedrà più il campo, mi dispiace, a meno che non arriva a 60 per volontà divina Io l'unica forza cosa che potrei fare è mandare in prestito al Varets, signori Perché noi comunque al centrocampo abbiamo Raid, Raid, Mariani e Amponsa No, no, è l'unico centrocampista che abbiamo, niente, al Varets ce lo dobbiamo tenere Va bene così raga, va bene così Partita importante, partita importante contro lo Svonzi Speriamo di riuscire a portarci, siamo in casa, signori miei, il 18 gennaio 2023 Siamo in casa contro lo Svonzi, loro vengono da tre vittorie consecutive L'ultima per 1-0 contro il Bristol City Che ci facciamo noi? Ci pareggiamo 1-1, no, no, brutto Vabbè, meglio un punto che niente Allora, hanno andato in vantaggio con Claudio al 43-43 Si hanno pareggiato loro con Selina al 68 Sono usciti a Monito, Lima E sono usciti Casadei, Nicholson e Morris Per esposito Raid e Naga Va bene, va bene, va bene Un punto che non ci serve a niente raga Ok, che era uno sconto diretto Ma a un punto che non ci serve a niente Sicuramente in campionato saremo scesi verso il basso Allora, abbiamo la prossima partita di FA Cup Arriviamo al ridosso della partita, signori Vediamo se abbiamo completato l'obiettivo della FA Cup Perché se lo abbiamo completato Offerta per la niente nazionale non mi interessa Se abbiamo completato l'obiettivo della FA Cup Io quasi quasi manderei i panchinari In campo Dov'è? C'è simpatia FK per raggiungere il 16 di finale Sì, l'abbiamo portato a termine Quindi io quasi quasi Mi vado a schierare i panchinari In questa partita, signori Così diamo sfogo un po' a tutti Allora, fuori Claudio dentro Peter Pan Fuori Morris dentro Naga Così non rimane male Fuori Casadei dentro Kuruma Fuori Amponsa dentro Alvares Fuori Mariani dentro Raid Mamma mia, Raid se non gioca una partita si arrabbia Impressionante Fuori Nicholson dentro Esposito Fuori Watanave dentro Mitchell Fuori Lima dentro Hamilton Salazar è rotto Fuori Drollo dentro Abru Fuori Mechill dentro Yadama Raga, lo so perfettamente che mi state prendendo per pazzo Ma dico, la Coppa non è un nostro obiettivo La Coppa non è un nostro obiettivo Non possiamo competere Diciamo a troppe competizioni C'erano contro il Petersboro Forse l'avessimo giocata con i Tontentolari La vincevamo contro il Petersboro Non neanche so in che categoria sia il Petersboro Che ci fanno? Vinciamo 2-1 Ma che stiamo a dire? Raga, spettacolo! Con i panchinari ce la portiamo a casa Sono andati in vantaggio loro Con il secondo con Mendison Pareggio di Mitchell E poi Peter Pan la porta a casa Il 78esimo è uscito il raid per Nicholson E si è fatto male Yadama Bravo, Yadama gioca una partita Una ne ha giocato E si è rotto il nostro partito di riserva Perfetto, grande Yadama Grande, tutta la stima per te Amico mio Facciamo gli allenamenti Marcos, sala 57 Bravo Marcos Bravo Marcos Devi diventare molto promettente amico mio Bravo Marcos Dai così, dai così Allora, andiamo a vedere le mail che sono arrivate in ufficio Giocatore infortunato 3 giorni per Yadama Bene, meno male Non è successo niente di grave Per fortuna Continuiamo il mese E arriviamo alla prossima partita Siamo nonni a 43 punti Siamo sempre a 7 punti dai playoff Raga, a 7 punti dai playoff Offerte per allenare le nazionali Non ci interessano Non ci interessano Siamo sempre a pari punti Sì Dai così Sanno arrivate 4 mail Io dovrei anche controllare il discorso di osservatori Che mi sa che praticamente Sto attraversando un buon momento Casa dei vuole giocare Allora, offerta di tirata Il secondo finale su Danzi Su Danzi e su Vega Allora, vediamo della Vega Della Vega costa 20 milioni Raga, è un'ottanta Porca miseria È irraggiungibile praticamente Attaccante destro 80 Tanta roba Tanta roba Mostra un'ottima potenziale Potremmo vedere di prenderlo in prestito Elio Danzi Difensore Un 60 Niente di particolare E Andrea Danzi Un cc Un 76 9 e 5 Contratti scadenza fra 6 mesi Non sarebbero male Non sarebbero male Lui può eventualmente prenderlo Prenderlo in scadenza Intanto vediamo qual è Il giocatore che vuole parlare Casa dei Va bene Casa dei giocherà Che ora devono tornare i titolari Allora, facciamo una cosa Giochiamoci la partita E poi le ultime ore di mercato Ce le facciamo nel prossimo video E aspetto i vostri commenti Allora, qui tornano Morris e Claudio Che sono riposati Sulla destra torna Caccia dei Al centrocampo tornano Amponsa e Raide Così la gioca Sulla sinistra Nicholson In difesa Watanabe Qui torna Lima Sì, con Harwood Al posto di Abru Torna Drollo E al posto di Adama Torna McKinley Sì, va bene così Va bene, va bene Salazar Attenzione Salazar è tornato E allora torna Salazar In difesa raga Salazar Lima No, forse era Lima Quello che si era rotto Non mi ricordo Qualcuno se l'ha rotto di sicuro Comunque torna lui il titolare Va bene Ok, la squadra ce l'abbiamo Vediamo cosa riusciamo a fare In quest'ultima partita Del video di oggi, signori Del video di oggi Dove che ci si aspetteranno Siamo ospiti contro il Birmingham Non so in che posizione sia Il Birmingham in classifica Noi non dobbiamo guardare La classifica degli altri Dobbiamo pensare a noi Loro vengono da una vittoria Contro il Queen Park Rangers Perché contro le Leicester City Penso sia la coppa Che ci fanno noi? Pareggiamo Ma porca miseria Ma dai Che pareggi inutili Signori miei Che pareggi inutili E' uscito il raid per esposito Mamma mia Tranne il miracolo in coppa Abbiamo fatto con i panchinari In campionato con i titolari Facciamo schifo Mamma mia E vabbè E' andata così E vabbè E' andata così Non possiamo farci niente Raga La stagione Mi sa che andrà un po' così Cosà Qui non sarà nessuno Tutti che si allenano Ma non sarà nessuno Mariani sta per raggiungere 68 Dai ragazzi Un po' di impegno Porca miseria Un po' di impegno Andiamo a leggere la mail Che sarà Casa dei che ci ringrazia Che lo abbiamo fatto giocare Presta zionatorevole Va bene Campionato siamo sempre Noni Ah eh si Ora se ne sono andati 9 punti In Litz In Litz Adesso ha 9 punti E vabbè Arriviamo all'ultimo giorno di gennaio Di mercato Signori miei E concludiamo il video Qui Perfetto Detto questo Vi ringrazio per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Ciao Ciao